Partiti stamane, gli esami di maturità per oltre 36.000 studenti pugliesi e 526.000 italiani. Nel complesso, in tutto lo stivale, saranno esaminati da 14.000 commissioni per un totale di 28.000 classi. Nel dettaglio sono 14.933 maturandi tra Bari e Batte e provincia, 3.259 a Brindisi, 6.103 a Foggia, 7.105 a Lecce e 5.251 a Taranto. Stamane alle ore 8.30 la prima prova uguale per tutti, una prova per accertare sia la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale avviene l'insegnamento e sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. Tra le tipologie di testi da poter scegliere con sette tracce ed altrettanti argomenti nei diversi ambiti di insegnamento. E il tototracce si è chiuso all'apertura delle buste con un garetti con pellegrinaggio che fa parte della raccolta L'Allegria per l'analisi di un testo letterario tra le tracce proposte. C'è anche Pirandello in realtà tra gli autori. E poi nella tipologia C con la riflessione critica Spazio Rita Levi-Montalcini con l'elogio dell'imperfezione, oltre ad un testo tratto da Maurizio Caminito, profili selfie e blog del 2014, che invita gli studenti ad una riflessione sull'importanza e il senso del diario nell'era digitale. Nella tipologia B, infine, per la prova argomentativa, un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso, storia d'Europa, con l'invito ai maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica. Altro testo di scoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Mattiò ed ha anche spazio al valore del patrimonio artistico e culturale, con la riflessione tratta dall'estratto di un testo della giurista e professorista universitaria, Maria Agostina Cabiddu, pubblicato sulla rivista dell'Associazione Italiana e dei Costituzionalisti. Nella traccia agli studenti è stato chiesto perché, a giudizio dell'autrice, la crescente domanda di bellezza non può rientrare nella categoria dei beni di lusso.